L'incidente sulla Provinciale 13 all'incrocio con strada Castellazzo a Valperga nella salata di giovedì 4 novembre intorno alle 20. A scontarsi frontalmente un Opel Corson a Fieddoblò. L'impatto è stato violento. Sul posto sono intervenuti la croce rossa Valli di Ranzo da Corio e i carabinieri. Uno dei due conducenti è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Cerie. Non è in pericolo di vita. La dinamica è al valio dei carabinieri. Disaggia il traffico veicolare per la chiusura temporanea del tratto stradale. Grazie. Grazie.